Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qua con un ospite, diciamo un ospite speciale perché è uno youtuber proprio come me, solo che a parte che ha molto più seguito di me, però è una persona anche che stimo molto, sia per i contenuti che porta, sia anche per la conoscenza che cerca sempre di trasmettere agli altri. Infatti il suo canale l'ho scoperto due o tre mesi fa e seguivo ogni video a un certo punto, visto che magari era simpatico anche l'opportunità di conoscerci, di scambiarsi idee e opinioni. L'ho contattato, infatti oggi abbiamo qua Alessandro Rosanio, che è il mio ospite. Ciao a tutti, grazie. Ha un canale da 700 iscritti, parla più o meno di finanza personale, azioni e molta macroeconomia, economia monetaria, anche perché ha una buona formamentis universitaria, ha due lauree, una in finanza in Bocconi e una in giurisprudenza, quindi abbiamo anche una certa autorevolezza dal punto di vista accademico, nel dire le cose. E quindi è un onore, tra virgolette, da parte mia e è un piacere soprattutto avere ospite del mio canale, Alessandro, che ci siamo sentiti anche telefonicamente, ci siamo trovati bene, siamo d'accordo su tante cose, magari in disaccordo su altre, però è giusto anche confrontarsi sulle opinioni. E oggi infatti vogliamo parlare dei tassi della Fed, che argomento di oggi saranno proprio i tassi, che sono stati alzati di 50 punti base, il più grande rialzo degli ultimi 20 anni. Ciao a tutti, grazie, io ti ringrazio e nonostante faccio video, come dico sempre, non è che sono molto, diciamo così, portato, a me non mi reputo tale, però ti ringrazio davvero e grazie a te, anzi, dell'idea che mi avevi dato e mi ha fatto veramente piacere. Anch'io, guardando tanti tuoi video, mi ha colpito l'approfondimento che fai e comunque anche la competenza, tra l'altro in modo molto puntuale, mentre tanti su YouTube sono così un po' presuntuosi, arroganti, tanto fumo, come si dice, poca sostanza, almeno per me, cioè per quello che ho visto io, veramente mi ha colpito il tuo canale e anche l'estremo approfondimento. Tra l'altro tanti temi io neanche li conoscevo, quindi per me sinceramente è utile, ti ringrazio, mi fa molto piacere anche a me proprio anche confrontarmi. Infatti l'altra sera ci siamo sentiti così, diciamo, parliamo un attimo, poi siamo stati due ore a chiacchierare di tante cose, quindi mi ha fatto veramente piacere, insomma, e spero che ha doppio senso, nel senso che riusciamo, ognuno porta un punto di vista simile ma complementare, secondo me, quindi, insomma, penso sia anche utile per chi ci segue, fare, vedere entrambi i canali e proprio anche come stili siamo diversi, però secondo me ognuno porta, per esempio tu vedo proprio che approfondisci certi temi, io invece vado un po' più così, chiacchiero di tante cose, mi dilungo anche troppo, però comunque entrambi, secondo me, magari penso diano qualcosa a chi ci ascolta, quindi, insomma, lo spero e ti ringrazio, anzi è stata un'ottima idea anche secondo me. Più che altro io vedo anche i contenuti che porti, spesso e volentieri, se una persona magari li mette e inizia a prendere appunti, diventano delle vere e proprie lezioni universitarie perché, nel senso, sono contenuti che comunque tu torni sempre che ti lasciano qualcosa, spesso e volentieri, quando vedi gente su YouTube che fa video, e non faccio nomi, io vedo semplicemente che è gente che fa tipo, boh, adesso siamo pronti, andiamo to the moon, Bitcoin è pronta a scoppiare, quest'azione è pronta a scoppiare, nel senso che manca il contenuto, almeno vedo in Italia ci sono veramente pochi YouTuber che veramente portano tanto valore, no? Allora siamo piccoli, non ha senso secondo me fare la guerra dei poveri e tirarci, diciamo, le trappole sotto i piedi per non crescere, proprio perché alla fine penso che l'obiettivo di tutti sia riuscire a crescere, perché è per una passione che abbiamo, che è quella della divulgazione, dello studio, e io ho notato anche che già dai tuoi video accresco molto le mie conoscenze, perché soprattutto magari sull'economia monetaria, la sto approfondendo molto in questo periodo, ma prima ero molto scarso di questo argomento, quindi veramente si cresce entrambi sui canali degli altri, anche relativamente. No, no, ti ringrazio, ma infatti io veramente, poi tra l'altro, quello che dico anche a volte sui video, veramente è più utile. Io all'inizio avevo aperto il canale con l'idea di dire magari insegno le basi per chi non conosce questo mondo e vuole proprio iniziare da zero. Dopo invece ho visto che in realtà il canale si iscrivevano soprattutto persone magari interessate che già avevano delle conoscenze, quindi per me anche sui commenti è diventata un'occasione per creare una sorta di gruppo di persone anche con cui confrontarsi. Io per esempio tante volte ho il problema anche con le notizie di cercare un confronto perché sulla stampa tante volte non si trova praticamente nulla oppure chiaramente è tutto molto di parte, quindi poter avere un punto di vista e confrontarsi non è facile, quindi insomma per me è anche veramente una grande utilità anche conoscere persone, insomma, quindi penso che anche per chi ci segue secondo me ogni canale può dare un, cioè non solo un punto di vista diverso ma una forma mentale diversa. Io tante volte, esatto, mi dilungo probabilmente proprio perché ho avuto tante lezioni, quindi senza rendermene conto magari faccio quel tipo di approccio, però magari in realtà a volte vorrei avere il dono della sintesi, quindi magari i tuoi video su un argomento che riesci a rimanere su quello e uno lo capisce, lo approfondisce, per me sono veramente utili e veramente ti ringrazio, anche su certi titoli, quindi spero anche per chi ci segue, ma poi sì l'utilità è quella di imparare alla fine perché poi comunque in un periodo di questo genere non è facile trovare le informazioni, quindi è reciproco insomma. Bene, allora oggi volevamo parlare dei tassi Fed, in particolare Powell ha parlato al FOMC, al FOMC, questa sera, e siamo rimasti tutti, almeno le persone che sono nel mio gruppo, diciamo di amici stretti, siamo rimasti tutti un po' stupiti dal fatto che si era forzato l'euro sul dollaro nell'immediato susseguirsi della notizia. E lì molti mi hanno iniziato, sono iniziati a chiedere il motivo di questa cosa, allora chiedo a te il motivo e poi ti dico cosa ne penso io, così vediamo se siamo su questo punto di più. Sì, poi anch'io ovviamente faccio un'ipotesi. Secondo me è un effetto, quello come si dice, by the rumor, sell the news, cioè nel senso che magari già c'era l'aspettativa in questo senso, quindi essendo stata confermata, probabilmente molti hanno chiuso le posizioni, posizioni, il dollaro si è rafforzato abbastanza ultimamente per tutta una serie di motivi, secondo me, poi ne avevamo parlato nei vari canali, il mio nel tuo, quindi insomma, però penso che oggi comunque hanno anche chiuso delle posizioni a livello speculativo. Poi secondo me su questo è interessante anche, io cito sempre Ridalio, ma perché secondo me comunque ha un approccio semplice, spiega meglio di altri, quindi forse perché lo capisco meglio per questo, però lui evidenziava il problema, per esempio la stagflazione, che potrebbe, diciamo, peggiorare, proprio per il fatto che, diceva, la politica monetaria che fa la Federal Reserve non è sufficiente per bloccare un'inflazione che è oltre l'8%, ma allo stesso tempo rischia anche quel poco di, con l'enorme debito che c'è, danneggiare, insomma, l'economia reale, soprattutto tutti i creditori e debitori, insomma, tutti i detentori di quell'enorme massa di debito. Quindi può essere che il mercato, questa situazione, magari comincia a vederla. Io l'ho letta così, ecco. Io, addirittura, ho immaginato che addirittura ci sia stata anche una volontà da parte dei fondi speculativi di indurre come la persona nei giorni precedenti proprio a vendere, perché il mercato stava scontando magari anche un aumento ulteriore dei tassi. Infatti il mercato, secondo me, aveva già scontato questo numero dell'1%. E oggi, proprio sull'uscita della domanda, magari c'erano molte persone che si erano preventivamente posizionate short anche sul euro-dollaro e chiaramente sono venuti a mangiare sulle carcasse della povera gente i soliti fondi gestiti da algoritmi. Ed è stato, secondo me, incredibile la reazione, perché il momento stesso che è stato pronunciato, che era confermato, che quindi non c'era nulla di diverso, il mercato si è colorato di verde dopo pochi minuti, ma l'euro è inizialmente schizzato a ribasso, quindi sembrava che la gente stesse entrando proprio a rotta di collo in short. E ci sono persone che hanno fatto la cosa opposta, si sono posizionate long e si sono prese i soldi di tutte queste persone. Quindi quello che penso io è che è proprio un buy the rumor, sell the news clamoroso. E anzi, i giorni precedenti io addirittura li avevo utilizzati, non avevo parlato su YouTube perché chiaramente non vado a dire i trade che faccio per una questione di rischio, o anche perché non è che mi vado a dire cosa faccio. Sì, anch'io ho sempre paura a dirlo perché poi magari... Perché ho paura che dopo la gente mi segua. No, più che altro dopo c'è gente che fa ma quindi devo fare così. No, cioè nel senso è un rischio che mi sto prendendo io, soprattutto su cose che sto presupponendo che succedano, ma non avendo la sfera di cristallo. Quindi diciamo che la notizia oggi mi ha sconvolto più che altro perché mi aspettavo questa cosa, ma non pensavo fosse così plateale. Tipo vedere un euro-dollaro, dopo qua allegherò la foto, così proprio più 0,65% su una valuta Forex che è qualcosa di incredibile e anche le altre S&P oggi ha chiuso al 3-4%, quindi comunque siamo in una cosa abbastanza fuori dall'ordinario. Io penso, apro un libro di economia monetaria, dicono alzo i tassi, vuol dire che si rafforza la moneta del paese che ha alzato i tassi. Oggi è successo l'opposto, completamente l'opposto. Vuol dire le azioni sono salite perché chiaramente se si deprezza il dollaro le azioni salgono, il dollaro si è deprezzato sull'euro, quindi oggi qualcuno è esploso all'uscita della notizia. E questo fa pensare come l'economia non si può sintetizzare in un libro di storia o in un libro universitario. L'economia è un sistema complesso e come ogni sistema complesso due o tre variabili non possono rendere negativa o positiva la funzione. La funzione è un insieme di variabili e quindi più cose si tengono in conto meglio è. Lo stesso Reidalio, come stavi dicendo tu, lo ha capito benissimo questa cosa, nel senso che, o Jim Simons di Rhinossons, e qualsiasi cosa succeda nel mondo, i loro algoritmi, i loro computer la scontano già e cercano di dare un sistema probabilistico che porti a capire dove andranno i mercati. Infatti penso che oggi tutti scontavano una decrescita del dollaro e allora la gente si è posizionata long perché vuol dire che la gente si aspettava una cosa e il tempo lo stava già dando per scontato. Sì, comunque condivido. Infatti, dicevo, le variabili sono sempre tantissime. Poi l'altra sera parlavamo della storia di Reidalio che lui racconta sempre di quando i primi anni Ottanta andò quasi fallito proprio perché aveva fatto una previsione tra l'altro giusta che molti stati del Sud America non avrebbero ripagato i debiti di dollari alle banche americane, però poi le conseguenze di questo fallimento lui aveva... Esatto, infatti, se abbiamo... Esatto, e poi dopo da lì lui aveva fatto la previsione corretta all'inizio ma le conseguenze, appunto la macchina dell'economia come propagavano questi ingranaggi, aveva sbagliato la previsione, aveva previsto un crollo del mercato, invece era stato l'opposto e quello da un lato l'aveva quasi mandato fallito, dall'altro lui dice è stata la mia fortuna perché mi ha insegnato a studiare e approfondire. Appunto le variabili, come dicevi giustamente, sono tantissime e alcune razionali, alcune forse anche irrazionali, legate anche alla psicologia degli investitori a volte, però in questo caso proprio sono anche questioni di tempistiche, di speculazioni. Sui metalli preziosi anche a volte manipolazioni del mercato, ci sono stati vari casi, molti dicono ma perché non è salito l'oro, anche lì le motivazioni possono essere tante, ma io ricordo vari proprio patteggiamenti di banche per manipolazione del mercato dei metalli preziosi, e poi anche per esempio l'oro comunque è salito rispetto, ma l'argento è veramente basso rispetto, cioè tipo adesso sta a 22-23 dollari e nel 2010 sta a 70, ma nel senso è un po' in oversold, tra l'altro ho visto prima l'altro giorno un grafico che è proprio un grafico molto bullish nel breve, che è simbolo di una manipolazione proprio dell'asset. Sì, sì, ma anche perché poi ha tantissimi usi industriali oltretutto, quindi anche proprio come diciamo valore intrinseco, tra virgolette, nel senso comunque ha molti utilizzi, anche per esempio i meccanismi di purificazione, antinquinamento, quindi dovrebbe aumentare il prezzo, soprattutto in questo periodo, invece così non è, quindi appunto tante volte uno deve sempre andarci cauto, perché poi le motivazioni sono tante, quindi sul mercato dei cambi poi ha maggior ragione, insomma. Un'altra questione era, che volevamo parlare in questo video, sempre parlando di valute, era il ruolo dello yuan nel prossimo futuro e il ruolo che la Cina avrà nel prossimo futuro, perché l'America chiaramente dovrà in qualche modo sopportare l'inflazione oppure scavalcarla, perché ricordiamo sempre che gli stati godono quando c'è alta inflazione, perché nel breve periodo gli costa meno il debito, nel lungo periodo devasta l'economia, però un'economia americana con 30 trillion di debito, l'economia italiana con 3 trillion di debito, un 150% di debito pubblico PIL, avere un'inflazione all'8-9% ti dà un po' di fiato nel breve, perché non devi aumentare gli stipendi, perché se no aumenta l'inflazione, riesci in qualche modo a pagare meno il debito, perché letteralmente stai guadagnando soldi in valore reale e quindi le economie nel breve cercano di mantenere alta l'inflazione. Purtroppo però non è una cosa sostenibile, perché se si va in stagflazione, cosa che tu hai supposto, ma credo proprio che succederà, in stagflazione è uno scenario economico dove c'è inflazione alta, ma l'economia è ribassista o tende a stagnare, quindi è uno scenario di estrema panico ed estrema incertezza. Esatto, poi tra l'altro lì si attiva anche un meccanismo dopo delle aspettative, come avvenne negli anni 70, per cui dopo, anche se non c'erano più fondamentali economici, le aspettative di inflazione facevano sì che c'erano tutta una serie di distorsioni, non solo di mercato, ma anche proprio delle scelte, diciamo, degli operatori, cioè delle persone. Quindi dopo uscirne devastante, fu fatto negli Stati Uniti da Volcker, nei primi anni 80 portarono i tassi di interesse al 20%, ma, dicevamo l'altra sera, appunto loro avevano un rapporto debito pubblico PIL al 30% degli Stati Uniti, quindi li potevano reggere un 20%, oggi no, chiaramente, quindi hai centrato, secondo me, il discorso dell'iperindebitamento. E secondo me sì, si ricollega la Cina, come dicevi appunto, che è un mondo totalmente diverso lì invece, hanno pochissimo debito, hanno un mercato in forte potenzialità di espansione, la Cina, io poi dico tutto un po' il mondo euroasiatico, la Russia, l'India e tantissimi altri paesi, anche dell'Africa, del Medio Oriente, eccetera, hanno poco debito, molte prospettive di crescita, anche a livello demografico, per esempio, sì, la Cina ha in teoria un problema dovuto alla politica del figlio unico, per cui loro sarebbero in declino demografico, ma comunque hanno delle possibilità di espansione proprio economica enormi che noi non abbiamo, quindi sono dei mondi totalmente diversi, infatti, secondo me, dicevamo, il mondo si sta dividendo in due blocchi, non dal punto di vista politico, come magari era durante, non so, la Guerra Fredda, ma c'è un mondo un po' tra virgolette in declino, che purtroppo Europa, Stati Uniti e Giappone, essenzialmente, che era il primo mondo, e tutto il resto del mondo, che invece ha ancora la possibilità di un modello, invece di sviluppo anche consumistico, comunque di mercato, eccetera, quindi penso, insomma, questo sarà un grosso problema e una sfida. Più che altro, io ho notato che in questo periodo la Fed, o anche la Banca del Giappone, o la Banca Città Europea, sono tra l'incudine e il martello, citando la tua frase, perché il fatto è che, mentre la Cina, per esempio, adesso darà dei supporti all'economia mostruosi, ha tra l'altro anche diminuito la riserva frazionaria, ha azzerato i tassi, perché sono in lockdown in Cina, però nel senso, prima o poi ripartiranno, e ripartiranno con un Falcon 9 di Elon Musk nella schiena. Mentre noi, in Europa, azzerare i tassi è impossibile, in Giappone azzerare i tassi, ce li hanno già azzerati. Se in Giappone, per contrastare l'inflazione, alzassero i tassi, esploderebbe l'economia giapponese in tre giorni, perché hanno un debito pubblico che è superiore al 250%. In America non è così, ma già un tasso di interesse al 5% su 30 trillion diventa qualcosa da rifinanziare, un piano Marshall diventa da rifinanziare. Quindi, nel senso, si dovranno fare delle scelte nel prossimo futuro. E secondo me la Cina, questo lockdown, tra l'altro, sta giocando una partita quasi già vinta, che sarà l'unico pacere nel conflitto Russia-Occidente, fondamentalmente, e in più sarà l'unico player che magari, se dovesse, speriamo che non succeda, ma probabilmente tutti dicono che succederà, quindi succederà, ripartire il Covid ai livelli pesanti che ci sono di solito a settembre, la Cina sarà azzerata. La Cina avrà il Falcon 9 sulla schiena con i tassi a zero e è un print di money eccezionale. È uno Stato che non è la Germania, quindi non è che appena avete un po' di inflazione e inizia l'alzarità, si impazzisce. È uno Stato che è abituato a stare nell'inflazione e quindi, secondo me, saremo in una situazione dove rischiamo veramente, non dico il sorpasso, però rischiamo di regalare tanti punti di PIL alla Cina, come è stato, anche perché l'Italia si giova se riesce a fare 0,5% di PIL. La Cina, solo nel primo trimestre 2022, ha fatto il 5,5% di incremento del PIL, quindi adesso avrà un trimestre a zero, forse in negativo, però penso che quest'anno, con questi stimoli che avranno, riusciranno sicuro a chiudere un altro PIL, il più 7% di PIL e questo significa che le aziende cinesi inevitabilmente cresceranno e le aziende americane faranno fatica, le aziende europee ancora di più. Quindi, quello che secondo me è da portare a casa da questo video è che l'investimento in Cina adesso è sottovalutato, non è un consiglio finanziario nella nostra situazione all'investimento, ma il mercato cinese è l'unico mercato in questo momento rispetto al mercato americano e europeo, fondamentalmente, perché basta vedere le tech stock cinesi o comunque le azioni cinesi che fino hanno fatto negli ultimi mesi l'indice Hang Seng, nel mentre che l'SP faceva più 27, ha fatto meno 20, meno 15 l'anno scorso, quindi c'è un po' di vario che verrà colmato alla grande, immagino. Sì, sì, penso. No, ma infatti è stato anche per me quello che c'eravamo anticipati l'altra sera su questo, molto interessante, perché anche lì, esatto, secondo me è una questione di oversold. Probabilmente questi risultati sono, oltre al discorso adesso del lockdown, sono anche l'effetto di tutta una serie di sicuramente sistema diverso, che non è che proprio rende paragonabile la Cina a quello che è l'Occidente. Per esempio, dicevamo, questo è l'intervento quest'estate, appunto di sostanzialmente nazionalizzazione di alcune imprese, della formazione, tutoraggio, eccetera. Quindi magari forse c'è la paura lì che dice il governo, così può intervenire quando vuole su queste società. Però secondo me è eccessiva la reazione che hanno avuto i mercati, anche secondo me, anche perché mi ha sorpreso appunto che nonostante questi lockdown feroci, che poi vanno avanti da più di un mese, l'economia sta ancora andando molto bene lì. Quindi, usando il termine che adesso fa tanto di moda, è molto resiliente che hanno questa moda adesso questo termine. Però effettivamente è molto impressionante. E tra l'altro, come dicevi giustamente, ho fatto un'ottima analisi sul tuo video di Alibaba, l'avevo visto e io tante cose sinceramente non le sapevo. C'è proprio del modello diverso che hanno rispetto a Amazon. Molti lo definiscono l'Amazon cinese, ma in realtà è oltre Amazon sotto tanti punti di vista. E anche qui in Italia, insomma in Europa, ha un grossissimo peso. Quindi sì, probabilmente loro... Io avevo fatto una teoria, te l'avevo anticipata, diciamo che probabilmente il mio timore, cioè il mio timore, la mia idea era che comunque loro facevano anche queste misure, forse eccessive dal punto di vista sanitario, perché molti altri paesi hanno una politica più così, almeno in questa modalità di Covid, che sembra meno pericoloso, di sostanzialmente convivere con la malattia, a intervenire se proprio superano a livello sanitario certi limiti. Loro invece proprio hanno ancora questa idea del Covid zero. Allora io ho pensato, ma è un'ipotesi, avevo detto, magari era per frenare al momento, col fatto che c'è un forte aumento delle materie prime energetiche e quelle alimentari, su cui loro tra l'altro mesi prima si erano premuniti, all'inizio del 2022 avevano accaparrato materie prime, avevano vietato l'esportazione di fertilizzanti, che adesso mancano. Quindi avevo pensato, magari è un modo per frenare l'inflazione, paralizzando l'economia, in modo che poi, passato questo momento dell'aumento delle materie prime energetiche e alimentari, riescono a mantenere un costo del lavoro limitato. Questa era la mia teoria, però effettivamente in ogni caso, magari la mia e la tua sono anche possibili, entrambe forse. Ci riflettevo che alla fine, magari anche perché comunque è vero, danneggia la loro economia, ma danneggia anche la nostra. C'era un articolo, poi magari lo inserisco in descrizione di Reuters di oggi, faceva proprio anche un calcolo dell'impatto che avrà anche da noi, anche perché adesso i lockdown feroci li stanno spostando su aree, diciamo, non solo Pechino, ma anche aree industriali, dove per esempio c'è la Fox, con quella famosa che fa gli iPhone, eccetera. Sì, sì, fa i CPI. Quindi magari comunque i danni, tra virgolette, che si fanno da loro, lo fanno anche a noi. E poi soprattutto, certo, io ricordo dopo la prima ondata, anche lì, loro all'inizio fecero delle misure estreme, però ricordo per mesi, io conosco anche dei miei amici, che sono, diciamo, di origine cinese, vivono in Italia, ma hanno parenti e tutto, dicevano che lì quasi non avevano casi, avevano chiuso i confini, ma dentro vivevano come prima, praticamente. Quindi dopo hanno recuperato la grande, insomma, i numeri lo dimostrano, quindi può essere entrambe. Io solo, analizzando la mentalità cinese, come, cioè per dire, ho letto questo libro qua, molto interessante, l'economia cinese del XXI secolo. Io conosco questo, grazie. Di Alessia Amighini, editor Il Mulino, l'ho preso con il bonus, ero in libreria, ho detto, boh, costa 14 euro, avevo soldi, ho detto, boh, lo compro, però mi ha aperto un sacco, sul modo di pensare che hanno loro, perché noi diamo per scontato un sacco di cose, che però là non sono scontate, o che comunque sono diverse, no? E per esempio, noi diamo per scontato che arrivi il Corriere Amazon a casa. In Cina non esistono le strade in certi posti, no? E il fatto che Alibaba stia facendo adesso, abbia preso quella multa da 15 miliardi, la multa diventerà vere e proprie strade, vera e propria logistica per lo Stato cinese. Quindi lo Stato cinese non è che è schiavo delle aziende come sono i nostri stati, che neanche riusciamo a fargli pagare le tasse alle multinazionali. Lo Stato cinese ha lasciato le rendine aperte agli stati, alle loro multinazionali, ma ora adesso le cercano di controllare, gli stanno tenendo le briglie tirate, e cercano di piegare la finanza allo scopo di far del bene al popolo cinese. E in questo modo se potenzi le infrastrutture, la logistica, tu per esempio con Alibaba riesci in tutta la nazione in 24 ore a portare un prodotto. Amazon lo riesce a fare, ma Amazon opera in Italia, e per esempio al sud Italia mi pare che non riesca in esattamente 24 ore in certe zone a portare le robe. E Alibaba ci riesce perché chiaramente crea l'infrastruttura. Non è che si metta ad asfaltare le strade in Italia per... Non è che fa servizio pubblico. In Cina si sveglia, dice oggi voglio fare la strada di 30 chilometri, gliela fa fare a qualcun altro, nel senso impone a certe aziende di stare a certi termini, se no l'Italia le gambe. Quindi diciamo che il modello cinese è un modello tra virgolette piegato verso più al cittadino, al benessere, alla crescita della comunità. Quindi la persona in sé per sé non ha senso, mentre da noi c'è l'individualismo. In sé per sé la persona in Cina non ha molto senso, ma la comunità vale più di tutto il resto. Quindi secondo me hanno una diversità che però è anche un punto di forza, perché noi ci tiriamo le trappole tra poveri, nel senso che ci insultiamo tra di noi, ci blocchiamo tra stati. L'Europa tra l'altro in questo periodo ha fatto vedere quanto è disgregata, come dicevi tu nel tuo video, perché la Polonia dice una cosa, la Svezia è un'altra, l'Inghilterra è uscita, quindi non ne frega niente, ma la Francia dice un'altra ancora, la Germania è un'altra ancora. Noi facciamo un po' orecchie da mercante, cerchiamo di... Nel senso, è una situazione particolare e la Cina, secondo me, sta indubbiamente dominando il quadro geopolitico dal punto di vista delle opportunità che si stanno creando, perché può permetterselo, perché chiaramente in America, il paese della libertà, non penso che si possa fare un lockdown generale, tenere la gente chiusa in casa se fosse un carcere, quindi diciamo ha dei mezzi poco ortodossi, ma ottiene un risultato molto, molto, diciamo, ottimo. Sì, sì, certo, può fare, ma lo spiega bene, infatti Ridalio proprio in vari casi ne ha parlato, ma in particolare proprio nell'ultimo libro, quello Il mutevole ordine mondiale, e lui fa tutta la storia, e mi piace perché poi lui ha un approccio molto neutro, nel senso che lui, a parte conosce la Cina benissimo, tanti funzionari, quindi lui da trent'anni la vive proprio, talmente tanto, tu mi dici addirittura, ha fatto studiare i figli in Cina, infatti questo non lo sapevo. Lo dice qua, perché c'è, ce l'ha una piccola biografia, ti parla del suo primo figlio, sì, sì, l'avevo visto, ma questo l'ho ricordato. Mi pare che è bipolare, che aveva aperto un'associazione benefica per i bambini in Cina, dopo che era andato là a studiare, quindi mi ricordavo questa robetta qua, perché leggendo il libro. ma infatti questo, cioè non lo ricordavo, ma per dire che esatto, lui la conosce bene, e lui fa proprio vedere, sia come gli Stati Uniti, con i loro valori, ma tra l'altro, cioè è impressionante, tante cose io non le sapevo, per esempio a metà Ottocento loro avevano una alfabetizzazione quasi totale negli Stati Uniti, in Italia era non so se il 20%, una cosa del genere, eravamo un paese sviluppato comunque, quindi poi spiega bene la mentalità americana, ma anche quella cinese, e aiuta appunto a capire, senza prendere posizioni, però aiuta proprio a capire loro come ragionano, e infatti c'è questa idea proprio tipo le formiche, questo è un paragone che faccio io, ma insomma, c'è del benessere generale, poi comunque lui diceva, non è che è un principio con il dittatore e la repressione, la paura della polizia, eccetera, ma è un sistema dove comunque, pur essendo dittatoriale, tra virgolette, perché comunque ovviamente c'è una forte... è monopartito... esatto, però dice, in realtà comunque si fonda sulla legittimazione indiretta delle persone, perché comunque ci hanno dei meccanismi, per cui se il presidente si impazzisce, è corrotto, fa una vita sregolata, e fa danni, comunque persino lì è rimosso, ci hanno dei sistemi, quindi loro hanno bisogno di un popolo che migliora le sue condizioni di vita, che chiaramente accetta, infatti adesso con questi lockdown ci sono immagini, un po' di proteste, perché comunque non riescono a comprendere, ma la prima volta, per esempio, no, quindi comunque hanno un approccio molto... per esempio il discorso di Amazon è estremamente interessante per questo, cioè in realtà anche apparentemente una sorta di furto, tra virgolette, di queste aziende, di fatto poi sono reinvestimenti che gli porteranno fatturati futuri, perché come dicevi tu, quelle strade, quelle infrastrutture poi porteranno maggiori utili in futuro, però riescono a avere una visione di lungo periodo, visto dicevamo proprio l'altra telefonata, questo, cioè che loro riescono a avere con questo approccio una visione di lungo periodo che purtroppo nel nostro sistema democratico non abbiamo. Io poi dico sempre citando la frase, non so se era di, mi sembra, Cerci, la dirittura, dice meglio la peggiore, diciamo che la democrazia dice per quanto imperfetta è il migliore tra i peggiori metodi, insomma, è il senso, però, quindi io ho questa idea in generale e preferirei vivere in una democrazia, però anche Reidalio giustamente dice ci sono questi problemi e è un dato di fatto, non è che negando i problemi che noi abbiamo, anzi dovremmo correggerli, invece la Cina comunque migliora, lui dice oggettivamente in trent'anni hanno azzerato quasi la povertà, hanno raggiunto, hanno alfabetizzato la maggior parte della popolazione anche. Esatto, infatti ci hanno dei potenziali di crescita enorme, tra l'altro io andai lì nel 2005 in un viaggio, ogni tanto ne parlavo nei video, mi colpì perché pensavo appunto di trovare lo stato dittatoriale, mi dicevano sto attento a non fare le foto a strutture, poi a caserme, eccetera, invece mi sorpresi perché la polizia quasi non c'era, tutti molto tranquilli e vedevi questi poliziotti tranquilli, ridevano con le persone, molto addirittura una del mio gruppo gli andò addosso una signora, erano un po' quelle cose da turisti, cioè questa aveva rotto una ciabatta, faceva finta di aver rotta questa, diceva voglio i soldi, arrivò un poliziotto tranquillo, aveva capito sta situazione, tranquillo, ha detto guarda questa, ha detto lascia stare se gli vuoi dare qualcosa ma una cifra ridica, non quello che quella chiedeva, truffava, quindi questo mi ha colpito questo poliziotto che erano cioè molto più tranquilli che da noi, cioè da noi vedi anche chi ha una mezza divisa, una pettorina già si sente non lo so potere incredibile invece lì mi ha colpito questo proprio c'era una legittimazione della popolazione io ho un amico che è in Erasmus in Giappone a Tokyo e quindi c'è una mentalità comunque asiatica giapponese che in parte è simile al modello cinese e mi diceva che là il concetto di essere un hustler cioè un essere un traditore una persona che mente non è proprio concepito cioè all'interno della popolazione giapponese ma quindi penso anche quella cinese nonostante siano abbastanza occidentalizzati sono molto coesi come popolo non tendono a dirsi bugie e mentirsi tra le righe e questo modello secondo me anche in Cina è estremamente favorevole perché come dici tu legittimano un leader perché sono delle popolazioni che da penso quattro millenni da prima di Cristo immagino hanno avuto imperatori hanno avuto comunque o Gengis Khan o hanno avuto comunque sempre una figura centrale e sono abituati a strutturare la società con un leader o comunque un partito leader fondamentalmente che viene letteralmente investito di certi poteri e non è detto che faccia il male del paese nel senso mancano magari ci sono certe mancanze perché non si può dire che la Cina sia il stato perfetto ha molte problemi infatti la democrazia come dicevi tu è il migliore tra le ipotesi anche secondo me però non è detto che sia la migliore delle ipotesi per loro come diceva Orsini nell'ultima intervista a Giletti diceva che suo nonno era felice da bambino anche se non era nato sotto una democrazia riferendosi non al fascismo ma alla monarchia e questo è oggettivo cioè nel senso il contesto in cui una persona vive se non è un contesto chiaramente di 42 per essere diciamo in Germania è un contesto che chiaramente può portare le persone anche ad apprezzare il lato positivo cioè se tu sei stato nel 2005 se andavi nel 2000 in Cina trovavi una situazione che nel 2020 è un altro pianeta cioè l'alfabetizzazione è aumentata del 2000% il tasso di mortalità si è quasi azzerato in fascia di popolazione che prima erano praticamente morte a 60 anni non si muore più di fame nel senso è cambiato il mondo e chiaramente una democrazia non può permettersi una crisi di quel tipo ma non vuol dire che il loro il loro modello sia sbagliato avrà dei problemi ma non è detto che sia sbagliato questo è oggettivo no no esatto è tutto relativo assolutamente comunque poi comunque come dici tu ci sono sistemi democratici chiaramente anche tutti i paradossi del nostro due pesi due misure si vede insomma poi chi studia storia o anche appassionato di storia ho scoperto che anche tu condividi questo interesse vede appunto delle cose diciamo appunto che magari anche dei sistemi democratici poi di fatto a volte hanno fatto delle atrocità peggiori magari su certi ambiti magari esatto di sistemi apparentemente dittatoriali ma che magari se a capo c'era una persona insomma con certi così con una visione con certe capacità con un modo obiettivo a volte ha fatto di più e meglio che appunto un sistema quindi esatto poi come dici tu noi perché abbiamo anche questa forma mentale culturale cioè io stesso mi ci trovo anche nelle scuole io fin da quando sono bambino però si fa relativizzato esatto io fin da quando sono bambino proprio nella scuola si parla democrazia la forma migliore dalla Grecia queste cose qua no e infatti ritengo che essere liberi sia una grande libertà scusa gioco di parole ma è questo che intendo no no certo però comunque nel senso ci sono un sacco di incoerenze adesso non entriamo non siamo attivisti storici geopolitici comunque ognuno può fare le proprie ricerche e capire tra le righe di cosa stiamo parlando ma nel senso ci sono varie incongruenze e ci sono come dici tu due pesi due misure soprattutto la storia scritta dai vincitori e quindi c'è un pelo di revisionismo su tanti ambiti che comunque va a sporcare la verità che la verità come si dice sempre è sempre un po' nel mezzo comunque a me ha fatto piacere questo primo video se diciamo ti va ne potremmo fare altri assieme sì no no assolutamente poi invito tutti insomma ecco a vedere il tuo canale se vogliono iscriversi io sinceramente lo dico adesso non per così per la la forma ma veramente sono tanti video anche di approfondimento molto molto interessante tra l'altro vedo che stai anche anche tu molto sull'attualità su riesci a fare veramente degli approfondimenti concreti e di sostanza cosa che è rarissima su youtube io tante volte i miei video magari a volte esagero ecco li faccio lunghi eccetera però cerco sempre di mettere un contenuto proprio perché io da utente io sono ovviamente anni che lo vedo e quando appunto vedevo quei video inconsistenti fumosi così superficiali mi dava fastidio che butto via del tempo a vederli quindi nel caso del tuo canale veramente mi ha fatto piacere perché ho trovato tanto lavoro si vede insomma che ci lavori che approfondisci che hai sempre anche una visione umile nel senso che pur avendo veramente uno studio tra l'altro mi dicevi da poco che ti appassioni alla materia ma sorpreso perché veramente c'è un lavoro dietro impressionante si vede quindi sono molto utile mi fa piacere insomma ecco anche averlo scoperto quindi assolutamente mi farebbe piacere fare altri video anche a me ma tra l'altro il fatto è che io ho 20 anni quindi è normale che abbia iniziato da poco ma anche guardando i tuoi video a me sembra veramente che il contenuto a parte che ti appassioni ma il tuo approfondimento addirittura a volte spaziando paradossalmente lo stai approfondendo ancora di più perché riesci a collegare tanti concetti che normalmente una persona neanche ci penserebbe spesso e volentieri anche magari il contenuto tuo io lo apro anche solo sulla fiducia neanche leggo il titolo ma spesso e volentieri magari dal titolo non sarei invogliato ad aprirlo poi apro il video me lo metto perché comunque è un video parlato quindi non mi serve guardarlo lo metto tipo podcast perché magari faccio altro sto guidando eccetera va a finire che alla fine dei 40 minuti sono come una spugna sono pieno di informazioni e anzi me lo vado anche a rivedere a volte mi tiro giù delle cose perché non so in un video tipo il tuo scorso video che hai fatto sul dollaro il concetto del credito il concetto del creare valuta tramite il sistema del credito non ci avevo mai pensato perché comunque io sono il primo anno di università quindi nel senso tante cose devo ancora studiarle però sono tanti concetti che passano secondo me in sordina per tanti utenti però almeno a me mi lasciano sempre qualcosa perché comunque il tuo contenuto so già che se lo clicco c'è un tanto studio e tanto pensiero dietro quindi è completamente reciproco e anzi io ti ringrazio perché tante conoscenze ce le ho anche grazie a te perché ti seguo da un po' di mesi per quello è stato un compiacere anche nel caso mio veramente e allora ragazzi seguite Alessandro perché vale la pena e magari a Francesco veramente no ma infatti è raro trovarne di qualità poi soprattutto in italiano io li seguo quasi tutti esteri quindi mi ha fatto piacere anche per questo quindi davvero grazie e speriamo di farne altre allora ci vediamo ciao a tutti grazie grazie a tutti